Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Trenitalia Centrale e direttore a Venezia Santa Lucia, nelle ore 19.04, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia e direttore a Venezia Santa Lucia, nelle ore 18.49, è in arrivo al binario di Trenitalia, a Venezia Santa Lucia e direttore 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 a Venezia Santa Lucia.